Giorni di ordinaria follia a Vittoria, dove trovare un parcheggio diventa sempre più difficile, arrivando all'insostenibile. Nei giorni scorsi, un uomo di 37 anni, a bordo della sua autovettura, stava iniziando le manovre di parcheggio alla vista di uno stallo libero, ma subito il tono arrogante di un 65enne lo intimava a non parcheggiare. Il 37enne ha chiesto il perché non potesse sostare lì, ricevendo come risposta che il posto era prenotato per sua figlia, che stava sopraggiungendo a bordo della sua auto. L'anziano, forse sentendosi deriso, per fargli capire che non stava scherzando, gli è sferrato un pugno sull'unotto posteriore. L'uomo, indisposto, è sceso dall'auto in cerca di spiegazioni su perché si stesse comportando in quel modo. A quel punto l'anziano ha estratto dalla tasca un coltello con lama di circa 20 centimetri e puntandogli all'affianco lo intimava ad andarsene. Il giovane, capito le cattive intenzioni, si affrettava a risalire in auto per allontanarsi, ma l'anziano lo rincorreva e, affacciandosi al finestrino, continuava ad insiedarlo dicendogli di farlo salire a bordo dell'auto per portarlo in un posto appartato così che gli avrebbe fatto vedere ciò di cui era capace e allungando il braccio all'interno dell'abitacolo gli sferrava un fendente al collo provocandogli una ferita. Intanto la figlia, sopraggiunta sul luogo, cercava di calmare il padre ed allontanarlo. La vittima, infine, è riuscita a portarsi a pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria, dove è stato medicato riscontrandogli una ferita superficiale da taglia al collo. La polizia del commissariato di Vittoria, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla vittima, ha identificato l'aggressore. L'uomo pregiudicato è stato denunciato per i reati di lesioni personali aggravate, minacce e porto abusivo del coltello.